Il canale, il canale Questo sono le super strade che non ha meno attivare la coppia Questi sono i reggi lani Eh, qui sono i reggi lani quelli Troppo tristemente famosi Il piede del differenzi non è utilizzato Qua non è un motivo per cui praticamente ne ha ceppi No, noi siamo soli quasi Qua ci stava una verità predisposta Ma è attirata Questa qua Vedremo la pace grande Oggi si inizia la campagna Si, sono tanti da riferire Questa è la stazione Questa è la stazione Questa è la stazione Ma è la c�ola Due paradiglie Quale è la stazione La metrocampana il nord-est Si si, tutta così Ma quella è già ormai già pronta Si Ma la metrocampana Io sto a Mugnano non c'è la tratta... si si mamma mia quando è in questo? no 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 fanno le paratie può mettere il topo e poi scavano sotto perché se l'hanno inventato i 50 anni fa a Milano infatti facciamo un metodo a Milano no no non si si non si vabbè no non si ma non si come il 2001 si Grazie.